Ciao ragazzi, io sono Rikuto, benvenuti in questo nuovo video. Allora, lo so doveva uscire Minecraft, però ho deciso di fare questo video un po' particolare per parlare delle sponsorizzazioni. Allora, nell'ultimo video, sponsor ovviamente, nel ciclo 33, che cosa è successo? Mamma, ve lo faccio vedere. Allora, raccolta, mi evite. Lo sto dicendo, nessuno mi ha insultato, non vi preoccupate. Allora, cosa è successo? Vedete, io ho risposto a sponsorizzami, no, 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 no. Questa addirittura a stack mi disiscrivo, il motivo è vero, mando d'affanculo, addirittura ho prebloccato. Guardate un poco. Sblocca utente, perché tanto è stronzo, non so il motivo per quale sia disiscritto, ma non me ne fotte. Allora, penso sia arrivato il momento di finire con le sponsorizzazioni per un semplice motivo. Chi la gente vuole, si vuole essere sponsorizzata, ma che cosa mi dà fastidio? Che non sono attivi sotto i miei video. Io vi sponsorizzo, io sì, lo faccio perché sono buono di cuore. E non è giusto che comunque i miei iscritti, sì, avranno altri iscritti, ma non è giusto che comunque non devono essere attivi perché io gli aiuto, ma voi dovete ricambiare ovviamente il mio aiuto. Non sto dicendo sponsorizzatemi o roba del genere, no. Io sto solo chiedendo gli assetti e nient'altro. Infatti ho rimosto un sacco di canali, mi sono disiscritto da un sacco di canali, eh. Questi qua sono i canali iscritti. Guardate, se faccio iscrizioni, sono tutti questi qua i canali iscritti. Tutti quanti. Se qualcuno, se da qualcuno mi sono disiscritto non è vero. Tra tutti questi canali qua che vedete, eh. Tutti questi. Sì, mettiamo in chiaro questo. E allora, XgreenPlayer, XgreenPlayer non mi sono iscritto. Rox non mi sono disiscritto. XgreenPlayer non mi sono disiscritto. Questa, andiamo un po'. Quest'altro ragazzo non mi sono disiscritto. No, non mi sono proprio disiscritto, no. Da Catello non mi sono disiscritto. Da CiccioGamePC non mi sono disiscritto. Sto cercando di rimanere attivo con tutti, anche se alcuni di voi passano, tutti i miei video dicono, passa da me. Da ChiavinoZoomaghi non mi sono disiscritto, nemmeno da suo fratello. Poi, andiamo un po', facciamo tutti. No, non mi sono disiscritto, questi costi, tutti i canali. Ma faccio da A, da Z, sì. Tutti questi qua. Oppure adesso i più recenti, vediamo, più recenti. Nuove attività. Ecco qua, guardate, non mi sono discritti, questi costi, tutti i canali. Ne avevo mille di canali, li ho dimostri tutti in due giorni, pensate. Perché non erano attivi. E che non di essere sponsorizzati, ma io li ho messo nel culo, ma non mi sono, non li ho sponsorizzati. Per il semplice fatto è che io non sono proprio attivi sotto i miei video, quindi che vi sponsorizza a fare. Quando siete attivi, io poi che ho, faccio lo spronzo vostro, quindi le sponsorizzazioni verranno annullate subito. No, qualcuno sicuramente si è discriverà, diranno che sono un coglione, sono un bastardo, tenendo che non sono, che mi sono discritto nei loro canali, ma l'ho fatto per un motivo ben preciso. Mi dà fastidio che voi non siete attivi, questo ecco, va bene, l'ho detto. Mi creavo un sacco di nemici, e questo video, questo che già volevo fare da te, ma non l'ho voluto fare, perché altrimenti questo video sapevo che scatenano le conseguenze. No, mi sono stancato e ho deciso di farlo. Molti di voi sicuramente si iscriveranno, mi daranno del bastardo, dello stronzo, del coglione, del bugiardo, di rinanzionati sui miei video, che io dico sempre, io sono attivo ma lascio like senza commentare. Purtroppo molti di voi non mi credono, quindi mi mi sto costretto a commentare. E va bene, non fa niente, un commento ci può pure stare. Ma io l'ho fatto soltanto per il semplice fatto che molti di voi non sono attivi. Io ho quasi 2.000 iscritti, ma solo 70 di voi sono attivi, più o meno. E per un canale di 1.900 iscritti questo è proprio sbagliato. Io ho fatto iscritto di cambi fino al 1.900. Il mio obiettivo è arrivare a 2.000, dopo i 2.000 mi voglio fermare con gli iscritti di cambi. Quindi se mi volete aiutare, mi daremmi qualche iscritto, ma non so che fare onestamente. Non so se abbandono, per una stronzata, dobbiamo dire proprio di no. Anche se però le visuali contano su YouTube, non c'entra niente, like, dislike e quant'altro. Possete si acchiappare un sacco di dislike, sicuramente. E diranno, bastardo, mi sono disiscritto perché tu non sei attivo sotto il mio canale. Bleh. Sicuro, fanno così. Non diceva oggi. Ecco, come fa oggi? Se io non mi sono disiscritto, tu non sei attivo sotto il mio canale. Questo perché non è giusto. Sei un coglione, voglio essere sponsorizzato. Voglio vedere quanti voi sono attivi. Vediamo sotto questo video. Vedrò, io sponsorizzo solo quelli là che sono attivi. Mi danno una mano. Sì, lo so, ma in contraddizione con quello che ho detto per sponsorizzazione, vanno annullate. Ma io non le annullo, io sponsorizzo solamente la gente attiva. Non sponsorizzo gente non attiva. Perché è inutile che faccia lo stronzo vostro io. Capito? Ecco. Ora insultatemi pure. Più voi mi insultate, tanto voi siete figli di puttano. Perché a me che me ne frega. Comunque, tutti quelli che mi danno del coglione del passato, del bugiato che non c'è anche su tutti i loro canali, sono dei figli di puttano. Punto. E con questo è il più. Poi insultatemi quanto lo vedete, da noi più un minuto e dall'altro mi riesce. Buonanotte. Dei canali che avete visto là, eh, non mi sono proprio disiscritto. Quindi non incominciate pure voi, per favore. Grazie. 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 Grazie.